Cari amici normo-intuitivi, una lettrice di nome Erika, che fa l'archeologa, mi ha inviato una notizia di grande interesse, pubblicata su Stile Arte e Quotidiano di Cultura. Trema la terra, a 4 metri e mezzo di profondità esce un enorme serpente di pietra di 500 anni fa, creata una camera speciale per salvare i colori della scultura sacra. Ecco, qualche giorno fa, il 14 ottobre, a città del Messico, un terremoto ha portato alla luce un incredibile reperto archeologico, una colossale testa di serpente scolpita nella pietra che risale più di 500 anni fa. Questa testa è alta un metro ed è lunga un metro e ottanta. La cosa interessante è che si sono conservate le tracce di colore, circa l'80% della sua superficie è policroma, con tonalità ocra, rosso, blu, nero e bianco, che sono state stabilizzate grazie a un meticoloso lavoro di restauro. Certo, la testa è stata messa, diciamo, a asciugarsi molto lentamente in una camera umidificata, perché se si dovesse asciugare in modo troppo veloce si creerebbero delle formazioni saline, delle crepe e così via. Quindi, la terra trema, si apre una spaccatura nel terreno ed esce fuori una colossale testa di serpente. Io credo che al nostro amico Bergoglio questa notizia farà molto, molto piacere. Perché dico così? Perché lui ha sicuramente una grossa fede nell'aspetto simbolico degli eventi, dei fenomeni naturali. Cosa che, invece, non si riscontra in ambito cattolico. Ecco, questo è il tema di questo podcast. Cioè, non stiamo qui a dire, ah, sta arrivando l'anticristo, vedete, si è aperta la terra, è uscito il serpente, eccetera, eccetera. No, non è questo il fulcro di questo intervento. Il fulcro è vedere come, da parte cattolica, di fronte a fenomeni naturali, dal carattere simbolico, pregnante e fortissimo, tutto questo rimanga lettera morta. Per esempio, sapete bene, vi ricordate benissimo, nella notte delle dimissioni di Papa Benedetto, un fulmine colpì la croce che sovrasta la cupola di San Pietro. La foto fu scattata dal giornalista dell'ANSA, Alessandro Di Meo, e fece il giro del mondo, creando molta impressione tra i fedeli cattolici. Ecco, però, nonostante questo segno piuttosto evidente, piuttosto evidente direi, nessuno col senno di poi ha attinto a questo patrimonio tradizionale, sapienziale, simbolico, perché sin dagli albori dell'umanità l'uomo ha sempre assegnato un significato anche spirituale, simbolico, fenomeni naturali come fumi, terremoti, eclissi, passaggi di comete, eccetera. Li ha sempre considerati come segni inviati dalle divinità per avvisarci di qualcosa. Eppure, eppure, questo uso si è completamente perso. Ecco, qualcuno come Monsignor Viganò, come Professor Viglione, direbbe è tutta colpa del concilio. Beh, in un certo senso, sì, possiamo anche convenire su questo. È tutta colpa del concilio se si è perso questo approccio con il mondo fenomenico naturale di tipo religioso tradizionale. Ecco, poi possiamo ricordare il gabbiano che si era appollaiato sul comignolo della Cappella Sistina proprio nel giorno delle elezioni di Bergoglio. E il gabbiano è un uccellaccio, frequenta le discariche, si nutre di rifiuti, di caroni, eccetera, tanto che ha addirittura, come sapete, mutato le proprie abitudini alimentari ed è diventato un vero e proprio predatore, come se fosse un rapace. E infatti ci ricordiamo quanto è accaduto il 26 gennaio 2014, quando in occasione della Corvana della Pace, dell'azione cattolica, due bambini, come di tradizione, erano accanto al presunto Papa, in questo caso, alla loggia del Palazzo Apostolico, per liberare due colombe bianche in segno di pace. Ecco, come ricordate tutti, queste colombine appena sono state liberate sono state prese di mira da un gabbiano e da una cornacchia. Una di esse pare che sia stata uccisa. È certo perché quelle colombelle chiaramente non sono esperte volatrici e quindi probabilmente sono cresciute in cattività e quindi sono state subito predate da questi uccellacci. Potremmo ricordare anche un episodio che riguardò la visita di Bergoglio, sempre nel 2014, nel maggio, alla fine di maggio, quando Bergoglio si recò alla Grotta della Natività a Betlemme, subito dopo, dopo poche ore, si è sviluppato un rogo a causa della caduta accidentale di una lampada a olio nella Grotta della Natività. Le fiamme hanno danneggiato alcuni razzi all'interno della Grotta e hanno annerito le pareti del monumento che dal 2012 è patrimonio UNESCO e vorrei pure vedere. Ecco, a proposito di fiamme, a proposito di fiamme mi viene in mente adesso una coincidenza. Voi sapete che praticamente negli stessi giorni in cui davamo, pubblicavamo su questo canale il reportage sulle sale del palazzo di Castelgandolfo, nello stesso periodo, in quegli stessi momenti, si sviluppava un incendio nell'appartamento del palazzo apostolico di Castelgandolfo. E sapete dove? Proprio nella sala del concistoro. Ecco, diciamo, avevo già accolto questa strana tempistica, no? Appena pubblichiamo il reportage sulle stanze di Papa Benedetto, a Castelgandolfo si sviluppa un incendio. E dove? Nella sala del concistoro. Perché mi ha colpito? Perché la declaratio di Papa Benedetto fu pronunciata davanti al concistoro dei cardinali. Un fatto spontaneo? Chi lo sa? Hanno detto, dopo aver tenuto nascosta la notizia, hanno detto che si era sviluppato un incendio per un cortocircuito. Prima hanno detto un condizionatore, come al solito, no? Le solite versioni discordanti. Prima era un condizionatore che aveva fatto cortocircuito, poi è diventato una lampada, una lampada risalente agli anni 90 che avrebbe preso fuoco. Ora, io non so se all'amministrazione del Palazzo Apostolico di Castelgandolfo sanno che fin dal 1965 sono stati inventati i salvavita, interruttori salvavita differenziali. Cortocircuiti, praticamente, ormai quando si dice che un incendio è avvenuto per cortocircuito, l'80% delle volte è doloso, perché il cortocircuito è la scusa veramente più stupida. Mi ricorda un po' quelli che dissero che l'incendio di Notre Dame era avvenuto perché una cicca aveva dato fuoco a un trave di quercia, spesso un metro. L'avete fatti, Boy Scout? Sapete accendere un fuoco? Ecco, provatevi a dare fuoco a un trave di quercia di un metro di spessore con una cicca. Vi regalo 3000 euro, se ci riuscite. Ecco, sala del concistoro in Vaticano, dove Papa Benedetto pronuncia la sua declaratio e poi prende fuoco, negli stessi giorni in cui viene pubblicato il reportage su Castel Gandolfo, prende fuoco proprio la sala del concistoro di Castel Gandolfo. Curioso, no? Curiosissimo. Ecco, ancora più curioso il fatto che il mondo cattolico, presuntamente tradizionalista, conservatore, una cum, non si interroga minimamente di fronte a questi episodi e non tenti nemmeno di approcciarli da un punto di vista simbolico. Ecco, se Dio stesse loro dicendo qualche cosa, credo che rimarrà molto deluso. Bene, cari amici, occupandoci di cose meno simboliche e più pratiche, più tecniche, vi ricordo che oggi sarò a Darfo, alle ore 16.30, presso l'hotel Brescia, via Zanardelli numero 6, domani sarò a Gardone Riviera, nella sala consigliare municipale, piazza Scarpetta 1, e il 22, dopo domani, sarò a Paratico, nella sala consigliare in via dell'Assunta. Un grosso ringraziamento ai comuni che hanno voluto ospitare questa conferenza. Ricordo che l'articolo 21 della Costituzione offre a tutti i cittadini la possibilità di esprimere il proprio pensiero. Quindi, se c'è qualcuno che non è d'accordo con me, intervenga pure alle conferenze, gli sarà data parola per fare un intervento. Certo, non di mezz'ora, di qualche minuto, per esporre le sue obiezioni e contestazioni, io risponderò molto volentieri. Grazie a tutti coloro che mi hanno espresso solidarietà per la barbara cancellazione della petizione da parte di Citizen Go. Devo dire che l'episodio si è rivelato un grosso boomerang per questa piattaforma di petizioni. Ecco, vedete che sta diventando sempre più importante, sempre più fondamentale e dirimente la questione se Benedetto ha abdicato o no. Tutto ruota intorno a quello. è inutile fare le campagne contro gli LGBT, contro gli arcobaleni, per tutelare i ragazzi a scuola, eccetera, eccetera, se poi non si affronta la questione principale. Bergoglio è o non è il Papa? Ma ancora prima, Benedetto ha abdicato oppure no? Questa è l'unica questione che conta. Lasciate perdere tutto il resto, perché se non c'è il Papa e l'usurpatore, come vedete, se ne infischia della sua legittimità, ma va avanti come un treno e semmai mette in guardia il chiacchiericcio, vedete bene che è in corso un'impostura, una mistificazione millenaria. Quindi tutto il resto viene in secondo o terzo ordine. La cosa più importante è vedere se Benedetto ha abdicato oppure no. Tutto il resto viene da sé. Grazie per avermi ascoltato. Sempre attenti al mondo dei simboli e poi ognuno li interpreti secondo la propria sensibilità e la propria credenza. Un caro saluto a tutti. Grazie per avermi ascoltato.